Il Gran Premio della Nazione Una irruenza senza sforzo perché è tutta trasformata in istia Ha su Coppi il vantaggio di essere informato sugli sviluppi della gara Pedalata piena, regolarità da orologio svizzero Nessuna insidia nei nervi Coppi in paragone è più teso In questa prova ha vinto due volte nel 46 e nel 47 Se fa il terno riconquista il titolo di re del cronometro Su quale però Koblet ha preso una specie di opzione Hugo ha da riscatare lo scacco di Varese nel campionato mondiale su strada Ma ha dovuto cambiare tre volte di bicicletta I 2 minuti e 26 di vantaggio su Coppi si stanno assottigliando Negli ultimi 40 chilometri Fausto batte tutti i tempi precedenti E al Parc des Princes è accolto come un vincitore Ha dissipato ogni dubbio su se stesso Ora aspetta come giocatore quando si scoprono le carte Un applauso, arriva l'altro Vittoria per un minuto e 42 Koblet con l'aiuto del Pettine ne fa una vittoria in bellezza